Tempo di pausa natalizia per l'universo youth. I giovani dell'US Avellino riprenderanno infatti i loro campionati soltanto verso la fine del prossimo gennaio. Il club di patron Angelo D'Agostino si è ritrovato per i classici auguri di Natale con Giovanni D'Agostino, amministratore unico di DC, che commenta soddisfatto questo 2021 calcistico dei suoi lupacchiotti. È stato un anno di crescita ma di successi siamo diventati punto di riferimento per tante ragazze che vogliono giocare a calcio e stiamo portando avanti il progetto del calcio in rosa. Per il 2022 mi aspetto un ulteriore step di crescita. Non poteva mancare Rambo De Napoli che da coordinatore tecnico della youth rimarca il suo senso di appartenenza e sottolinea che ancora oggi è visto come un idolo da parte delle nuove generazioni dell'US Avellino. A fare da chiosa anche gli auguri del responsabile del settore giovanile Giuliano Capobianco che afferma lavoriamo per costruire una base solida ricreando nuovamente credibilità intorno al club. Ci siamo messi in gioco ed affrontiamo realtà consolidate negli anni, felice per quello che abbiamo costruito. La youth coltiva sogni di gloria, si canne dall'US Avellino a diventare una nuova realtà del calcio giovanile del panorama nazionale. Da anni infatti le varie gestioni hanno cercato di portare avanti un progetto, quello con i giovani, che sembra essere sempre più difficile. L'intento è che la nuova proprietà diventi quello che tantissimi anni fa era la florida cantera bianco-verde che vinse anche uno scudetto.